Comincia ad emergere un quadro più dettagliato e preciso sui numeri, gli antefatti e la dinamica attinenti l'assalto al cavo della Sicur Transport di Catanzaro avvenuto la sera di domenica 4 dicembre 2016. Scegliendo la giornata del referendum costituzionale che ha impegnato nei seggi numerose forze di polizia, in uno spazio temporale di pochissimi minuti una banda di malfattori professionisti ha messo in atto un blitz di tipo militare con cui ha trafugato ben 8 milioni di euro in contanti. Almeno altri 40 però sono stati lasciati lì, di sicuro a malincuore, nel deposito blindato della ditta di Portavalori, località profeta del comune di Caraffa, a due passi dalla stazione ferroviaria di Germaneto. Perché dunque la banda non ha raccolto l'intero bottino disponibile? Il primo elemento è casuale. Mentre iniziava l'assalto al cavo, una delle guardie era al cellulare con un collega, cui ha dato l'allarme prima che i telefoni venissero isolati. Il secondo riguarda il varco nel muro. Dalle immagini si rileva che qualcosa deve essere andato storto e che l'apertura praticata per la fretta o per la resistenza delle barre d'acciaio non ha agevolato l'ingresso di tutti i banditi incaricati di razziare l'enorme quantità di euro. Gli investigatori hanno potuto verificare che i malviventi, di sicuro provenienti da fuori Calabria, erano in 13, arrivati sul posto con un furgone e due macchine. Mentre alcuni isolavano la zona bruciando sette automobili in diversi punti strategici e lasciando chiodi sull'asfalto, uno o due malviventi hanno staccato i collegamenti telefonici ed elettrici. Uno si è messo alla guida della benna percussione perforando il muro di cemento armato, un paio sorvegliavano le vie d'accesso, gli altri sono entrati nel cavo a prelevare le migliaia di mazzette di banconote. Ad un certo punto però, malgrado ci fosse ancora tantissimo denaro a disposizione, circa 40 milioni di euro, i banditi hanno preferito dileguarsi. Quando le forze dell'ordine, sparando colpi in aria a scopo intimidatorio, sono arrivate sul posto, hanno trovato solo le due guardie di turno barricate per sicurezza in un bagno. Ma c'è dell'altro. Ricostruendo la vicenda, gli inquirenti sono risaliti a due episodi strani. Qualche mese prima, la ditta aveva ricevuto la visita di due donne che, spacciandosi con falsi documenti per ausiliari e comunali, si erano fatte consegnare la planimetria dello stabile. Questo spiega perché i rapinatori conoscessero con esattezza il punto da dove entrare nel cavo. L'altra circostanza riguarda un lavoro di scavo effettuato da finti operai nelle adiacenze dello stabile, con cui i malfattori hanno preparato il disinnesco delle linee telefoniche ed elettriche poi attivato al momento dell'assalto.